Serie D, Girone F, le Abruzzesi in campo per la 28esima giornata. L'Avezzano anticipa, Chieti e l'Aquila domani in casa, la sorpresa notaresco a Termoli. Il Chieti si avvicina alla sfida dell'Angelini contro lo United Riccione alle ore 14.30, con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi alla salvezza aritmetica, più 10 sui play-out al momento, e provare a ridurre le distanze dal quinto posto occupato dal notaresco distante solo 4 punti. Luiso in settimana ha mischiato le carte, non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi. Rebus in difesa, dove restano due ballottaggi, uno tra i pali, tra Serra e Antignani, l'altro al centro, tra Ciro Esposito e rientrante Vesi. Se Luiso dovesse scegliere di giocare con l'over Serra in porta, toccherebbe ad Esposito giocare al fianco di Conson. Ancora infortunato la Ziz Ardemagni, dopo la febbre, al massimo in panchina. L'Aquila contro il Fossombrone, dopo la battuta d'arresto di domenica scorsa a Sora. La squadra di Cappellacci ha ridotto all'umicino le speranze di agguantare i primi due posti della classifica. I Rosso-Blu, terzi, sono costretti a guardare in ordine Samb e Campobasso, rispettivamente a 3 e 8 punti. Ma i Rosso-Blu non vogliono arrendersi e già domani, davanti al loro pubblico del Gran Sasso d'Italia, vogliono riprendere l'inseguimento e blindare, intanto, il terzo posto attuale. Termoli-Notaresco. La vittoria sul terreno della San Benedettese ha catapultato il Notaresco al quinto posto, in piena zona play-off, certificando ulteriormente la squadra Rosso-Blu come la sorpresa del girone F. La squadra di Bruno a Termoli domani vuole mantenere, ma senza assilli, la propria posizione negli spareggi promozione. Bruno conta ancora sul gol dell'argentino Belloni, 12 finora, il terzo miglior marcatore del girone. L'Avezzano anticipa oggi pomeriggio ad Ascoli contro l'Atletico alle ore 14 e 30. Biancoverdi quarti a 3 punti dall'Aquila, ma tallonati alla stessa distanza dal Notaresco. Ferrazzoli cerca il colpo in terra marchigiana per mettere pressione ai cugini del capoluogo, che sfiderà poi nel derby giovedì prossimo allo Stadio dei Marzi.